Buonasera, sono Laura Antichi. Vi parlerò di come installare il VOR per OpenSIM. Infatti, per accedere a OpenSIM è necessario scaricare il visualizzatore. Tra i visualizzatori consigliati ci sono alcuni, ma noi scaricheremo Firestorm. Pertanto andiamo nella casella di ricerca di Google e scriviamo Firestorm Download. Clicchiamo sul secondo risultato che ci viene offerto, Download Firestorm Viewer The Phoenix Firestorm Project e qui ci troviamo direttamente nella casella del download. Choose your platform e, come vedete, vi da la possibilità di scaricarlo per Second Life o per OpenSimulator. Precedentemente c'era anche la possibilità di scaricare Firestorm che sia per insieme per Second Life che per OpenSimulator. Ora i download sono separati. Quindi andiamo a scegliere Download Firestorm Viewer for OpenSimulator e qui scegliamo il nostro sistema operativo. Possiamo scegliere tra Windows, Apple oppure Linux. Scelgo Windows e si apre la finestra del download e mi chiede se voglio scaricarlo a 64 bit per OpenSim download oppure la versione a 32 bit per OpenSim download. Noi scaricheremo la versione per OpenSim sim a 64 bit. Quindi andiamo a scaricare il nostro file EXE di Firestorm e andremo poi a eseguirlo sul nostro computer. Lo salviamo e poi lo usiamo. Ecco questo è il primo passo per poter poi accedere a OpenSimulator. come abbiamo detto. Una volta che abbiamo aperto Firestorm dobbiamo settarlo. Ci accertiamo prima che la nostra grid dal momento che vogliamo entrare in Craft World sia a Craft World. Dal menu a tendina possiamo scegliere quindi la grid. Inserire il nostro nome e poi la password. Possiamo scegliere di collegarci alla casa. Vedete qui. Oppure potrei anche mettere un'altra località ad esempio un'altra sim ad esempio Anitel. Lascio casa. Mi riporterà nell'ambiente della Station Hydra da cui potrò poi partire per accedere alle varie sim. Se per caso non comparisse il nome della grid Craft World dovrò andare nel menu in alto, preferenze e in OpenSim delle preferenze dovrò aggiungere la grid Craft World. Nel menu Gestisci Grid andrò a scegliere Craft World. Cliccherò su Craft World che verrà automaticamente inserito e poi lo vedrò comparire nella interfaccia della grid Craft World. Dopodiché facciamo Entra e entreremo con un avatar di default. Io sto entrando con il mio avatar che ho già predisposto in Hydra. Aspettiamo che carichi. Ha caricato il mio avatar e da qui posso poi andare in mondo. Scelgo la mappa. La stessa operazione la potrei fare partendo dalla barra in basso, vedete, qui ho la mappa del mondo. Si apre la stessa finestra. Nella finestra che mi compare scriverò Anitel, clicco su Cerca e faccio Teleport e verrò trasportata nell'ambiente di formazione. Ok. Grazie a tutti.